Dopo cinque vittorie consecutive, l'Arezzo calcio femminile, domenica 2 maggio, scenderà in campo tra le Muramin che contro la Roma decimo quarto. Sicuramente una partita difficile come sono state tutte le ultime, perché comunque tutte quante le squadre, sia qui a Arezzo, anche quando andiamo fuori casa, vedi l'ultima partita con il Riccione, vengono molto agguerrite, cercano sempre di farti lo sgambetto, ma questo sicuramente sia con l'Arezzo ma anche con le altre, con il Bologna, con il Filecchio, con la Torres. Quando si incontrano le prime della classe sicuramente si dà in campo qualcosa in più per cercare di riportare a casa un risultato positivo, che può essere magari anche un pareggio per queste squadre. Con chi vi scontrerete? Allora, domenica Roma decimo quarto, è una squadra di Roma, siamo andati a Roma, siamo tornati con un risultato positivo sia sotto l'aspetto del gioco ma anche numerico sotto quello del risultato. Questo non vuol dire che comunque arriveranno i tre punti assicurati, ogni partita va giocata, si parte sempre da 0 a 0 e l'attenzione dovrà essere alta proprio per rischiare il meno possibile di commettere quegli errori che poi possono compromettere quella che è la partita nei 90 minuti. Questi incontri affrontati in modo importante, anche se le squadre occupano posizioni di classifica inferiori, vi permetteranno poi di affrontare gli scontri diretti? Sì, non possiamo o comunque possiamo dire che queste partite sono in preparazione degli scontri diretti perché abbiamo visto che il livello nel girone di ritorno degli avversari si è molto alzato, anche perché si sono tutte quante rinforzate nell'ultima parentesi di mercato, quindi le squadre che andiamo a affrontare non sono le stesse per quel che riguarda la qualità della squadra stessa, le stesse dell'andata, quindi sono tutti i match importanti indipendentemente che siano con le prime della classe o con quelle che sono dalla metà classifica fino alla fine, diciamo, le ultime posizioni. Grazie